Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine oramai a voi, tragicamente ben noto, della mia libreria, da me e da un video in cui torniamo a parlare della liberazione di Mussolini a campo imperatore. Il giorno in cui, come dire, su ordine del Führer Mussolini viene prelevato dall'hotel di campo imperatore sul Gran Sasso dove era custodito e viene portato via dai tedeschi. Abbiamo ascoltato il racconto del maggiore Mörs, del maggiore dei paracadutisti tedeschi Mörs che ci spiegava come scorzeni si sia appropriato della paternità dell'operazione ma c'è una testimonianza che in pochi citano quando si parla di Mussolini a campo imperatore, ovvero sia le parole dello stesso Mussolini. Allora, come sempre ci viene in soccorso il bellissimo regalo che mi ha fatto lo scorso anno quel gran duomo di Laurent Joux, che ringrazio tuttora di tutto cuore, ovvero sia la seconda guerra mondiale di Enzo Biagi, una storia di uomini, una delle migliori enciclopedie sulla seconda guerra mondiale mai fatte in Italia e probabilmente mai fatte al mondo, diciamoci la verità, che raccoglie tutta una serie di documenti estremamente interessanti, tra cui le parole dello stesso Mussolini a proposito della sua, mi si perdoni l'orrendo gesto, liberazione tra molte virgolette perché come ben sapete quello fu soltanto un cambio di custodia per Mussolini quello fu soltanto un cambio di custode, cambiarono soltanto i secondini perché Mussolini sapete bene che era poco più di un prigioniero, anzi era prigioniero dei tedeschi, cambiò soltanto custode. Praticamente Mussolini decise di raccontare le vicende che lo videro cadere e le vicende che lo videro in prigionia scrivendo in terza persona nell'estate del 1944 nel malinconico crepuscolo, nella malinconica reclusione a Villa Feltrinelli a Garniano e volle rievocare Mussolini il periodo cruciale della guerra in una serie di articoli anonimi comparsi sul Corriere della Sera che poi vennero raccolti in un volumetto che fu pubblicato sempre dal Corriere della Sera nel 1944. Tenete presente una cosa, l'editore di Mussolini era Oepli. Mussolini scrisse tantissimo durante il regime. Mussolini era un grafomane, diciamoci la verità, e Oepli era il suo editore. Questa serie di articoli prima anonimi, insomma narrati, era una serie di articoli anonimi narrati in terza persona che vennero raccolti in un volumetto intitolato storia di un anno, il tempo del bastone e della carota, ottobre 42, settembre 43. Molto probabilmente questo volumetto, questa serie di articoli, questa raccolta di articoli, il tempo del bastone e della carota, storia di un anno, è molto probabilmente la miglior cosa che abbia mai scritto Mussolini. Ripeto, Mussolini fu un grande giornalista, Mussolini era un grandissimo giornalista, non ci giriamo attorno, era un giornalista, si sentiva un giornalista e si atteggiò per tutta la vita giornalista. Vi ho raccontato del suo modo di controllare la stampa, del suo leggere continuamente e compulsivamente i giornali di tutta Italia. Il volume Storia di un anno, il tempo del bastone della carota, ripeto, è molto probabilmente la miglior cosa che Mussolini abbia mai scritto. Venne pubblicato dal Corriere della Sera in forma di volume perché il suo editore, l'editore di Mussolini o Epli, si rifiutò di pubblicarlo, addusse delle scuse, ma perché non volevano compromettersi gli editori. Insomma, la casa editrice o Epli non si voleva minimamente compromettere con un personaggio che già nel 44 si sapeva destinato a fare una brutta fine. ed è curioso perché veramente l'opera migliore probabilmente di Mussolini, lo dico io, lo dice Bocca, lo dice Bertoldi, lo dicono tutti coloro che hanno trattato la storia della Repubblica Sociale Italiana, molto probabilmente Storia di un anno è realmente la miglior cosa mai scritta da Mussolini che, ripeto, come giornalista era dannatamente bravo e non ci giriamo. Allora, Mussolini scrive, descrive così la sua liberazione. Erano esattamente le 14 e Mussolini, ricordiamoci che parla in terza persona, stava con le braccia incrociate seduto davanti alla finestra aperta quando un aliante si posò a 100 metri di distanza dall'edificio. Ne uscirono 4 o 5 uomini incachi, i quali postarono rapidamente due mitragliatrici e poi avanzarono. Dopo pochi secondi altri alianti atterrarono nelle immediate vicinanze e gli uomini ripeterono la stessa manovra. Altri uomini scesero da altri alianti. Mussolini non pensò minimamente che si trattasse di inglesi. Per prelevarlo e condurlo a Salerno non avevano bisogno di ricorrere ad una simile e rischiosa impresa. Fu dato l'allarme, tutti i carabinieri, tutti gli agenti si precipitarono con le armi in pugno fuori dal portone, schierandosi contro gli assalitori. Nel frattempo il capitano Faiola irruppe nella stanza del duce intimandogli «chiudete la finestra e non muovetevi». Mussolini, invece, rimase alla finestra e vide che un altro più folto gruppo di tedeschi, occupata la funivia, era salito e dal piazzale di arrivo marciava compatto e deciso verso l'albergo. Alla testa di questo gruppo, indovinate un po' chi c'era? C'è il trullone scorzeni, va bene. Scusate, i carabinieri avevano già le armi in posizione di sparo quando Mussolini scorse nel gruppo scorzeni, un ufficiale italiano che poi, giunto più vicino, riconobbe per il generale Soleti del corpo dei metropolitani. Allora Mussolini gridò nel silenzio che stava per precedere di pochi secondi il fuoco, urlò «che fate? Non vedete? C'è un generale italiano, non sparate! Tutto è in ordine!» Alla vista del generale italiano che veniva avanti col gruppo tedesco, le armi si abbassarono. Le cose erano andate così. Il generale Soleti fu prelevato al mattino dal reparto scorzeni e non gli fu detto nulla circa il motivo e gli scopi. Gli fu tolta la pistola e partì per l'ignota destinazione. Quando nel momento dell'irruzione intuì di che si trattava, ne fu lieto. Si dichiarò felice di avere contribuito alla liberazione di Mussolini e di avere, forse con la sua presenza, evitato un sanguinoso conflitto. E te credo io che te fai bello, ma insomma ti hanno sequestrato i tedeschi, praticamente ti hanno sequestrato i tedeschi, ti tengono lì praticamente come scudo umano e ti dici contento. Se si fosse detto scontento voglio sapere che gli sarebbe successo, ma vabbè, 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 vabbè. Soleti disse a Mussolini che non era consigliabile tornare immediatamente a Roma, dove c'era una atmosfera di guerra civile. Viede qualche notizia sulla fuga del governo e del re. Gli uomini di Scorzeni, sempre Citrullone che sappiamo bene non era solo un ospite, ecco, dopo essersi impadroniti delle mitragliatrici che erano state postate ai lati della porta d'ingresso del rifugio, salirono in gruppo nella stanza del duce. Scorzeni, sudante e commosso, si mise sull'attenti e disse il Führer che dopo la vostra cattura ha pensato per notti e notti al modo di liberarvi mi ha dato questo incarico. Io ho seguito con infinite difficoltà giorno per giorno le vostre vicende e le vostre peregrinazioni. Oggi ho la mia grande gioia liberandovi per aver assolto nel modo migliore il compito che mi fu assegnato. Scorzeni, tipico di Scorzeni. Cantassela e sonassela da solo. Va bene. Il duce rispose, ero convinto sin dal principio che il Führer mi avrebbe dato questa prova della sua amicizia. Benito, ricordati del detto dagli amici mi guardi iddio che ai nemici ci penso io. Benito, benito, benito. Ecco, ringrazio il Führer e con lui ringrazio voi capitano Scorzeni e i vostri camerati che hanno con voi osato. Il colloquio si portò quindi su altri argomenti mentre si raccoglievano le carte e le cose di Mussolini. Al pian terreno carabinieri e agenti fraternizzavano coi germanici, alcuni dei quali erano rimasti feriti non gravemente nell'atterraggio. Alle 15 tutto era pronto per la partenza. All'uscita Mussolini salutò con effusione i camerati del gruppo Scorzeni e tutti insieme, italiani compresi, si recarono in un sottostante breve pianoro dove un apparecchio Cicogna, il Fisler Storch FI 156, aspettava. Il capitano che lo pilotava si presentò. Giovanissimo, Gerlach, un asso. Prima di salire sull'apparecchio Mussolini si voltò a salutare il gruppo dei suoi sorveglianti. Sembravano attoniti, molti sinceramente commossi, taluni anche con le lacrime agli occhi. Lo spazio dal quale la Cicogna doveva partire era veramente esiguo. Allora fu arretrata per guadagnare qualche metro. Al termine del pianoro vi era un salto abbastanza profondo. Il pilota prese posto sull'apparecchio, dietro di lui Scorzeni e quindi Mussolini. Erano le 15. La Cicogna si mise in moto, rullò un poco, percorse rapidamente lo spazio sassoso e, giunto a un metro dal burrone con uno strappo violento del timone, spiccò il volo. Ancora qualche grido, braccia che si agitavano e poi il silenzio dell'alta atmosfera. La liberazione di Mussolini ad opera di arditi tedeschi suscitò in Germania un'ondata di grande entusiasmo. Si può dire che l'evento fu festeggiato in ogni casa. Credici Benito, vabbè. La radio preparò con ripetute emissioni gli ascoltatori ad una notizia straordinaria e non si ebbe delusione alcuna quando la notizia, verso le 22, venne conosciuta. Tutti la considerarono come un avvenimento eccezionale. Allora, la maestria di giornalista di Mussolini emerge pienamente da questo breve racconto. Un racconto, va bene, infiorettato di cose non esatte, lo sapete bene, un racconto nel quale Mussolini un pochino se la canta e se la suona da solo, ma racconta gli eventi con vivacità, con attenzione, con una sintesi molto moderna, siamo sinceri. È una sintesi molto moderna quella di Mussolini, rapida, secca, concisa, comprensibile, il tratto di un grande, di un grandissimo giornalista, perché Mussolini quello fu. Mussolini fu realmente un grandissimo giornalista, fu realmente un grandissimo cronista e questo breve paragrafo di storia di un anno, il tempo del bastone della carota, ne è secondo me un esempio mirabile, assolutamente. C'è da dire una cosa, alcune testimonianze, questo libro è stato scritto circa un anno dopo, questo articolo risale a circa un anno dopo i fatti e c'è da dire sicuramente che alcune cose vengono tacciute da Mussolini perché, ricordiamoci, Mussolini era sotto controllo, Mussolini era sotto tutela, Mussolini era prigioniero dei tedeschi. Quindi sicuramente certe cose non le poteva dire. A quanto sembra però, Mussolini non dice che ci sono testimonianze, però ricordiamocelo, sono testimonianze, non sappiamo se sono vere, non sappiamo quanto sono attendibili, ma a quanto pare Mussolini ha detto, nel momento in cui si accorse che quelli che atterravano sul pianoro di campo imperatore erano degli aglianti tedeschi e vide i Fallschirmjäger germanici, i paracaduttisti della Luftwaffe, come dire, correre verso di lui, sembra che abbia detto ad uno dei suoi guardiani, ci mancavano soltanto i tedeschi. Oggettivamente, come vi ho fatto vedere ragazzi, cioè vi ho fatto vedere anche in un'altra occasione, come dire, Mussolini non era propriamente in forma. Era un uomo stanco, era un uomo malato, era un uomo che aveva perso tutto, aveva realmente perso tutto, aveva visto tutto il suo potere, tutta la sua immagine, tutto il suo mondo sgretolarsi e per l'ennesima volta ve la faccio vedere. Mussolini liberato a campo imperatore, cioè signori guardatela bene questa foto, guardatela bene queste due foto. signori guardatele, un uomo spento, stanco, ammalato, sfinito, sfinito psicologicamente e fisicamente e si vede. Basta vedere quegli occhi, basta vedere quegli occhi. Insomma, ripeto signori, ve le rifaccio vedere. Guardate queste due foto, guardatele, guardatele. Vi sembra un uomo felice di essere liberato? Vi sembra un uomo che sta bene? Guardatelo, guardatelo, guardatelo qua, 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 guardatelo, guardatelo. Ancora più di quello sguardo, questa immagine, Mussolini nel sedile posteriore dello storcio, mentre scorzeni si sta sistemando dentro l'abitacolo si vede questo non è più il duce onnipotente, onnipossente, non è più l'uomo mandato dal destino. No, è un uomo finito, stanco, un uomo che sa di essere finito, un uomo che sa di essere destinato a una nuova prigionia sotto nuovi padroni e a fare una brutta fine. Tutto qua. Quindi, cari signori, adesso come sempre tocca a voi, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre aspetto le vostre considerazioni. Se non siete iscritti iscrivetevi di corsa al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi, così almeno pubblico, diciamo pubblico dai 3 ai 5 video ogni settimana, quindi diciamo che sono sempre il solito logorroico, ecco. E come sempre, ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate, commentate senza alcun problema e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!